Chiacchierato, ripreso, fotografato, discusso, criticato, esaltato e ora anche cantato. Super Mario Balotelli diventa una canzone, quella del rapper Vacca, che al giocatore italiano del Milan dedica un pezzo del suo nuovo album Pazienza. Il perché? Ce lo spiega lui stesso. Il pezzo non è stato scritto, di recente è stato scritto, dopo gli europei. In Italia siamo tutti bravi a giudicare, siamo tutti quanti allenatori, quando c'è la nazionale che gioca siamo calciatori, anche se non sappiamo fare tutto, ma in realtà non facciamo niente, ci piace smontare le cose che hanno una minima di successo anziché supportarle come accade in tutti gli altri paesi. Super Mario è una persona normale, Mario Balotelli è una persona normale, è un calciatore che a differenza di altri, come lo era Cassano, come lo sono stati tanti altri, come Totti piuttosto che altri, sono ragazzi normali, di conseguenza non crescono come altri che sembrano statuette, sembrano già 50 anni all'età di 21 anni, loro sono ragazzi che si divertono, hanno avuto questa fortuna di poter fare della loro passione il loro lavoro, come in questo caso anche per me, anche se i guadagni e le entrate sono realmente differenti. In realtà è che in Italia non abbiamo ancora accettato il fatto che ormai viviamo in una società multietnica, probabilmente l'italiano medio questa cosa non riesce ancora ad accettarla, in conseguenza vedere un ragazzo di colore italiano indossare la maglia italiana non è ben visto ancora, diciamoci la verità, di conseguenza ho preferito supportare la causa di Super Mario.